Le donne di Benito Mussolini. Sappiamo da numerosissime fonti che la vita di Mussolini fu segnata dall'incontro con una quantità innumerevoli di donne, che trovavano in lui un personaggio affascinante. Incontri che iniziano già in gioventù con la frequentazione di alcune case chiuse che nelle stesse memorie di Mussolini hanno cambiato il suo modo di vedere l'esistenza. In realtà il suo rapporto più duraturo, quello che lo porterà anche al matrimonio, è quello con Rachele Guidi, una giovane ragazza conosciuta ancora nei tempi della sua adesione al movimento anarchico e socialista e che Mussolini sposerà nel 1925. In precedenza si era rifiutato di sposarla perché in ossequio, diciamo così, alla sua visione del libero amore, che era un po' una visione tipica del socialismo e dell'anarchismo di allora. Il matrimonio, qualsiasi tipo di matrimonio, quello religioso in particolare, ma anche quello civile, erano visti da Mussolini come delle limitazioni. Dobbiamo ricordare, per esempio, che in questa fase della sua vita Mussolini è molto influenzato dal filosofo Nietzsche e dà tutta una serie di considerazioni che lo oppongono a quella che lui chiama, considera, la morale tradizionale. Rachele Guidi è la donna di tutta la vita, ma è anche la donna innumerevoli volte tradita. Tradita per amori passeggeri di un giorno solo, tradita per figure anche più di spessore, diciamo così, che hanno influenzato anche il pensiero di Benito Mussolini. Una di queste è Angelica Balabanov, una rivoluzionaria ucraina di famiglia ebraica che lo avvicinò al socialismo e che fece di lui, come scrive un biografo da rivoluzionario della Domenica, un politico di professione. Angelica Balabanov non è l'unica donna ebrea ad aver influito fortemente sulla sua vita. L'altra, su cui torneremo, è Margherita Sarfatti, una femminista socialista che Mussolini conosce ai tempi in cui è direttore del quotidiano Lavanti e che sarà la sua musa e il suo demiurgo per moltissimi anni fino all'allontanamento negli anni che vanno fra il 34 e il 35. Tanti sono nel frattempo gli amori passeggeri, i cuori infranti, le storie anche molto tristi, come quella di Ida Dalser, questa donna che viene abbandonata insieme al figlio. Mussolini, del resto, è un uomo in particolare onnivoro da questo punto di vista, dal punto di vista sessuale. L'ispettore generale di polizia K. Agasti, nel 1919, in un ritratto che fa di Mussolini ricorda che è di forte costruzione fisica, sebbene sia affetto da sifilide. È un sensuale e ciò è dimostrato dalle varie relazioni contratte con donne, delle quali la più notevole è quella con la Guidi, Rachele, e con la Dalser sopra accennate. È un emotivo ed impulsivo e questi caratteri lo rendono, nei suoi discorsi, suggestivo e persuasivo, per quanto, pur parlando bene, non possa dirsi un oratore. Questa è la visione di questo ispettore di polizia che viene citato nei volumi di Renzo De Felice per la capacità di comprendere molto presto qual è la personalità del futuro Duce. Fra queste donne, prima dell'interventismo, all'incirca per due anni, vi è anche una figura molto singolare, molto originale, quella di Leda Raffanelli, che è una sorta di maga di di fattucchiera, di indovina, di cartomante, che fra il resto fa anche l'editrice, divulgando libri antimilitaristi e socialisti e anticlericali, e che è appassionata del mondo islamico. Nella sua casa Mussolini può vedere questi strani divani, questi amuleti, queste scritte coraniche appese ai muri. Il rapporto con Leda Raffanelli dura soltanto due anni, ma secondo alcuni biografi è un rapporto comunque significativo. La donna più importante dal punto di vista politico per la vita di Mussolini è la già citata Margherita Sarfatti, socialista, femminista, critica d'arte, giornalista. Margherita Sarfatti ha un ruolo importantissimo perché diventa, per esempio, anche l'anima della rivista ufficiale del Partito Fascista, Gerarchia, biografo Roberto Festorazzi, biografo della Sarfatti, ricorda che nel pieno vortice della crisi Matteotti Margherita si mise a scrivere La vita di Mussolini. Sarfatti è anche infatti la donna che contribuisce a creare il mito di Mussolini non solo in Italia, ma addirittura nel mondo. Ecco qua una delle tante, tre delle tante edizioni del libro Dux, che è questo libro, questa biografia autorizzata, scritto dalla Sarfatti, pubblicato da Mondadori, che ha un successo di vendite strepitoso in Italia e nel mondo. Viene tradotto almeno in 17 lingue, compreso il giapponese, ed è un libro in cui Mussolini viene presentato come un uomo straordinario, sicuramente anche molto ambizioso, viene presentato come un uomo devoto a Machiavelli e a Nietzsche, ma viene presentato soprattutto come un uomo fuori dal normale, un uomo unico, un uomo sicuramente degno di appartenere quasi al mito. Ecco, questa biografia contribuisce tantissimo al successo di Mussolini fuori dall'Italia. L'ultima delle amanti famose è Margherita, è Claretta Petacci. Claretta Petacci, che è la donna che lo accompagnerà anche poi fino alla morte. Infatti è celebre la fotografia in cui Mussolini e alcuni altri dei suoi uomini sono appesi a testa in giù. Fra costoro c'è proprio Claretta. Renzo De Felice ci dice qualcosa di questo incontro. A parte che Mussolini ebbe contemporaneamente le petacci anche altri amanti, scrive Renzo De Felice, il giudizio di Ciano, di Galerazzo Ciano, inaccettabile. L'origine della relazione con la Petacci va cercata altrove. Da un lato nella solitudine umana di Mussolini, nel particolare momento in cui si verificò, e cioè dopo lunga tensione della guerra di Etiopia e della malattia di Anna Maria, e da un altro lato nel desiderio del duce di sentirsi ancora giovane, di reagire all'incipiente declino fisico causato dall'età. Secondo le fonti più accreditate, le relazioni tra Mussolini e la Petacci ebbe inizio verso l'ottobre 1936. La Petacci fu l'amante più o meno stabile di Mussolini, anche se sappiamo che il loro rapporto fu tormentato dalle crisi di gelosia di Claretta, che veniva così abitudinariamente allontanata, i rapporti si raffreddavano e sostituita in molte occasioni con amanti di un solo giorno o di qualche giorno. Le donne più famose e più importanti dunque sono state sicuramente l'Angelica Balabanoff e la Margherita Sarfatti, curiosamente due donne ebree, e poi la Claretta Petacci. Ma sono tante altre le figure che hanno incontrato il duce rimandone in qualche modo affascinate. Qui abbiamo due donne francesi, entrambe di nome Magda, una pianista, una celebre pianista e una giornalista francese inviata dalle Maten, che era anche agente dei servizi segreti. Forse per questo, racconta uno storico, fu liquidata da Mussolini, si è venne con una regalia di 15.000 lire. Lei dapprima cercò di avvelenarsi, in seguito, convinta che fosse stato l'ambasciatore francese di Roma, di Francia a Roma a denunciarla, attese quest'ultimo, gli sparò un colpo di pistola alla testa senza ucciderlo. Innumerevole, dicevo, le donne, ma è interessante a questo punto è anche vedere un pochettino qual è la visione in generale che il fascismo ha della donna. Mussolini fa parte in gioventù, come si diceva prima, di quel mondo anarcho-socialista che è teorico dell'amore libero e che nello stesso tempo predica la necessità di non fare figli. Scrive addirittura nel 1904 un piccolo saggio intitolato Meno figli, meno schiavi. Cambierà poi radicalmente idea, diventando nel 1919 un sostenitore della crescita demografica e questo sarà poi una delle cifre distintive di tutto il suo pensiero successivo. In questo periodo il Duce si iscrive fra i socialisti, diciamo così, femministi. Per esempio, uno di quelli che propone il voto alle donne nel 1919, mentre nel 1925, quando ormai il Duce concede effettivamente il suffragio femminile alle elezioni amministrative, salvo poi come risaputo, passare all'abolizione delle elezioni tucur. In generale Mussolini propone un modello maschile che ha le sue origini nella statulatria ottocentesca, nell'esaltazione della violenza propria del socialismo e dell'anarchismo e nel culto neopagano del corpo maschile forte e valoroso. Quanto alle donne, il fascismo, scrive Paolo Meldini, accoglierà in pieno la lezione del positivismo mescolata con l'ideologia dannunziana e futurista che canta la guerra, sola e gene del mondo e celebra negli scritti nella vita il disprezzo della donna e della famiglia, definita da Filippo Tommaso Marinetti, compagno di strada del Duce, assurda, nociva, preistorica, una tenda di Bedouin. In un discorso al Parlamento del 26 maggio 1934, Mussolini esprime così la sua visione, la guerra sta all'uomo come la maternità alla donna. Due secoli di storia si riassumono così, due secoli di storia precedente, parte del 700 e dell'800, in una sentenza lapidaria cui hanno fornito il loro sostegno le donne ex socialiste, ex radicali e soprattutto radical borghesi che hanno aderito fin dalle origini al fascismo. Oltre le pattuglie piccole ma agguerrite delle legionarie fiumane e futuriste, un nucleo iniziale in complesso fortemente politicizzato e tutt'altro che casalingo, materno e remissivo. La Salfatti ne è un esempio lampante. Il fascismo però non riesce ad essere così pervasivo come sono contemporaneamente il comunismo e il nazismo e per questo in Italia abbondano uomini e donne che vivono valori alternativi. La storica femminista Gisela Bock, nel suo Le donne nella storia europea, scrive, le donne cattoliche credevano in valori più alti della nazione o dello Stato, in una motivazione interiore dell'essere umano, nella forza della personalità e ponevano accanto l'ideale della maternità anche quello della verginità. In tutti e tra i paesi, Italia, Spagna e Portogallo, si verificò anche e appunto un'espansione delle associazioni e dei movimenti mariani, cioè in onore di Maria. In Italia i gruppi di donne cattoliche costituivano una chiara alternativa alle organizzazioni fasciste. Nel 1931, quando i fasci femminili contavano 150.000 membri, l'Unione Femminile Cattolica ne contava 250.000. Le cattoliche organizzate esercitarono un grande influsso sulla cultura politica del paese, istituendo reti di mutua assistenza nel vicinato, gruppi di donne di diverse classi sociali, scuole, orfanatrofi e associazioni per bambini di tutte le età. Non erano oppositrici politiche, ma negli anni 30 furono in aperta concorrenza con la crescente aspirazione dei fascisti a dominare la gioventù italiana e subirono spesso aggressione da parte di bande fasciste. Negli anni del regime, continuiamo con nel libro scritto a quattro mani con Maria Cristina del Poggetto, il fascismo cerca di imporre con relativo successo il modello del matrimonio borghese, necessario alla divinità contemporanea, la nazione e lo Stato, per garantire la forza, all'Italia per farsi impero. L'uomo è soldato, non padre, non marito, la donna è madre, ma madre nel senso di produttrice, come sappiamo bene già dal pensiero positivista, produttrice di cittadini, produttrice di soldati. Non è tanto una visione materna tradizionale, quella che il fascismo veicola, ma è una visione di madre, un po' come appunto, passatemi l'esempio, come una mucca che deve produrre dei vittori. Questo, mentre Mussolini continua a disprezzare le istituzioni matrimoniali in sé per sé, circondandosi diamanti ed eridendo in privato la fedeltà e il senso religioso di molti italiani. Il duce non ama le feste, in particolare odia la domenica e il Natale, mangia spesso separato da mogli e figli. E quando avviene questo, di rado, alterna prolungati silenzi alla lettura del giornale. Non si sente né marito né padre. Questo lo apprendiamo per esempio da uno storico marxista come Paul Ginsberg nel suo interessantissimo Famiglia 900, edito da Inaudi nel 2013. In pubblico predica che il numero è forza, i figli non sono più dunque schiavi come quando era giovane, ma figli della lupa, camerati, soldati, e fa della maternità uno strumento di potenza, riducendo però la donna al suo aspetto unicamente biologico. Ai giovani che il regime cerca di sradicare il più possibile dalla casa, dalla famiglia, delle associazioni religiose, esattamente come fanno comunisti e nazisti, attraverso un intruppamento continuo nelle associazioni del regime, ricorda non i loro doveri appunto di figli e neppure quelli futuri di mariti e di padri, ma quello di soldati. Voi siete, scrive, afferma, l'aurora della vita, voi siete la speranza della patria, voi siete soprattutto l'esercito di domani. Nota lo storico Francesco Maria Feltri, non era affatto escluso da Mussolini e dagli altri fascisti che il maschio potesse avere relazioni estraconiugali, esse tuttavia dovevano avvenire nella più assoluta discrezione, oppure compiersi all'interno delle case chiuse, nelle quali vennero concentrate tutte le prostitute. Solo del duce di pochi altri gerarchi la stampa continuò a descrivere per diverso tempo, senza alcun imbarazzo, l'estrema libertà sessuale. E questa è un po', diciamo così, quindi una caratteristica che attraversa tutta la vita del duce. Poi, in occasione della campagna d'Etiopia, la propaganda fascista aprì questa libertà sessuale a tutti i dominatori, cioè in sostanza ai maschi italiani. Da moltissime riviste l'Etiopia veniva descritta come una specie di paradiso sessuale, o meglio come un luogo in cui il maschio italiano avrebbe potuto facilmente a pagare i suoi desideri erotici. Questo fino al 1938, quando l'avvicinamento a Hitler porta il duce a cambiare il registro sui matrimoni misti e in generale sugli africani. Un'ultima curiosità. Due delle citate amanti, Margherita Sarfatti e Claretta Petacci, raccontano un episodio curioso, affermò Margherita Sarfatti. In una notte come questa, o meglio, Margherita Sarfatti ricorda una confidenza del duce e la riporta con queste parole. In una notte come questa, è il duce che parla a Margherita, sedevo ripensando ad alcuni rilevanti libri, mentre all'esterno il vento gelido si bilava tra le montagne. Era circa mezzanotte e tutti a casa dormivano profondamente. Improvvisamente la persiana e la finestra, che erano state accuratamente chiuse, si spalancarono. Ci fu un rombo di tuone e un signore vestito di nero apparve sorridendo e inchinandosi dinanzi a me. La conosco, Mussolini, disse. Mi chiamo Satana e sono venuta a vederla ad aiutarla. Tutti i doni del mondo sono pronti per lei, se li chiede. Ero sbigottito e tuttavia nel più profondo del mio cuore sapevo che si sarebbe avverato, ma non gli dissi nulla. Che cosa desidera, mi dica. Ricchezze? No, risposi, non voglio denaro. Potere, urlai, e balzando in piedi ripetei con tutte le mie forze. Potere, potere, potere. Margherita Sarfatti, a distanza di anni, così commenta il biografo, non sa come qualificare quella narrazione mussoliniana. Si trattò di un sogno, di un'allucinazione, oppure di una elaborazione fantastica, densa, di un preciso significato simbolico, che Mussolini desiderava fosse tramandato come segno premonitore della sua gloria. Quello che possiamo dire è che certamente Mussolini era un personaggio che, seppur aveva abbracciato teoricamente l'ateismo, era profondamente superstizioso. Ricordiamo la figura di Leda Raffanelli, già citata, che era anche una cartomante. Sappiamo che, in giovinezza, amava frequentare le cartomanti. Ad esempio, a Trento, nel 1909, frequenta, indovine, fattucchieri in quella che è la via Schivabrighe, una via nel centro della città. E Quinto Navarra, il suo cameriere, il cosiddetto cameriere di Mussolini, nelle memorie del cameriere di Mussolini, ci ricorda che Mussolini crede fortemente nell'aiettatura, cerca segni negli astri, si fa leggere la mano, consulta raccolte di confidenze fatte dagli spiriti e portategli da alcune ammiratrici. Odiava la domenica, ci scrive ancora Navarra come Gainsbourg, e le altre feste comandate dell'anno, in particolare il Natale, perché aveva una superstizione anche nei confronti di queste festività. Quindi il Mussolini superstizioso ha sicuramente un ruolo che magari gli storici non sempre hanno affrontato, ma che è interessante. Quanto al racconto di questa epifania diabolica, raccontata dalla Sarfatti, essa doveva angusciare o affascinare davvero Mussolini se decise di metterne al corrente, in termini analoghi, anche un'altra amante, Claretta Petacci. La Claretta Petacci riporta anche lei le confidenze del Duce che in due occasioni, secondo Claretta, nel libro di Mimmo Franzinelli, Verso il disastro, ebbe a confidargli qualcosa di simile. La mia anima partiene al diavolo. Fu una sera a Tolmezzo, era ammanato e stavo nella stanza. Di un tratto la finestra si spalancò ed entrò all'improvviso con un baleno, un uomo alto, lungo, sottile, in fracchi e piedi forcuti. Venito, mi riconosci? Sì, gli dissi, sei il diavolo. Bene, cinque minuti per riflettere, per scegliere, vuoi la gloria, l'amore o la potenza? Dopo breve riflessione, così prosegue il racconto della Petacci sulle confidenze di Venito, il futuro Duce scelse la potenza, il potere, e ha consentì, pur terrorizzato, a consegnare la sua anima al diavolo. Al di là, appunto, di quello che possiamo pensare di queste confidenze, è interessante che Mussolini le abbia fatte a due delle sue amanti più importanti e che si iscrivano in questo rapporto disordinato, così un po' paranoico con il genere femminile e, secondo alcuni storici non certo antipatizzanti, anche con l'uso di sostanze stupefacenti. Dobbiamo poi ricordare che la paura della sifidide accompagnò Mussolini per tutta la vita e sicuramente segnò molte delle sue paure e anche delle sue scelte.